Ben tre ministeri si sono uniti per tracciare il piano di azione per l'occupabilità dei giovani del governo Berlusconi, quello del lavoro guidato da Maurizio Sacconi, quello dell'istruzione guidato da Maria Stella Gelmini e quello della gioventù guidato da Giorgia Meloni. L'obiettivo dichiarato è quello di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro per migliaia di giovani italiani, quello sottinteso favorire il rilancio dell'immagine di un governo che tra scandali e indagini giudiziarie appare alquanto appannata. Il piano, come hanno spiegato i tre ministri durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi, per la maggior parte degli interventi è già in corso e vede uno stanziamento complessivo di 1 miliardo e 82 milioni di euro suddiviso tra Ministero del Lavoro e Politica e Sociali, 486 milioni di euro, Ministero dell'Istruzione, Ricerca e Università, 492,5 milioni di euro e Ministero della Gioventù, 103,8 milioni di euro. Il piano si muove su otto linee di azione a favore dei giovani. Monitoraggio per il breve e lungo periodo delle professionalità richieste, dal mercato del lavoro e quelle in esso disponibili, orientamento alle scelte scolastiche e formative, integrazione scuola-università-lavoro, servizi di accompagnamento al lavoro, contratti di primo impiego, autoimprenditorialità, diffusione della cultura della previdenza e della sicurezza del lavoro nelle scuole e contrasto al lavoro giovanile irregolare e sommerso. Con questo piano, ha spiegato il ministro Meloni, vogliamo dimostrare l'attenzione che il governo Berlusconi ha sempre rivolto nei confronti del mondo giovanile fin dall'inizio del suo mandato. Lo dimostra l'esistenza stessa di un ministero per la gioventù, ma anche la particolare cura nel combattere la disoccupazione giovanile e nello scardinare col sistema Italia che domina negativamente il nostro paese. Non vogliamo, ha aggiunto Giorgia Meloni, scaricare ogni responsabilità sulle generazioni successive. Noi pensiamo che si debba innanzitutto portare avanti una rivoluzione culturale, cioè superare le rivendicazioni ideologiche con delle rivendicazioni che siano pragmatiche e pensiamo che il piano di riforme che noi abbiamo avanzato, di cui siamo orgogliosi, sia l'unica risposta seria che noi possiamo dare al tema grave, importante della disoccupazione giovanile, perché non è certamente con le rendite di posizioni, con la paura qualche volta strumentalizzata dei giovani e il no alle riforme che si possono dare loro risposte. Non ci sfugge la posizione contraria dell'opposizione e magari anche al momento una posizione contraria di una parte degli studenti, ma siamo convinti che la riprogrammazione dell'offerta formativa sia indispensabile, così come ripensare la scuola superiore e l'università, come d'altra parte hanno fatto moltissimi altri paesi. Noi abbiamo ancora un mercato del lavoro opaco, anche se un po' meno che in passato, grazie alla legge Biagi e ad alcune cose che stanno cominciando a funzionare. Tra queste Clic Lavoro. Clic Lavoro è la sintesi di alcune anche novità che sono intervenute, come per esempio il fatto che le agenzie di lavoro interinale oggi sono agenzie di lavoro, cioè poi con la legge Biagi sono diventate e ora cominciano davvero a farlo agenzie di collocamento. Clic Lavoro è il motore di ricerca istituzionale, siamo partiti in sordina ma sta funzionando, è un motore di ricerca che entra nei 300 siti privati autorizzati e entra nelle informazioni che invece hanno le regioni, le province e i centri per l'impiego. Nella parte pubblica l'andata a regime è più faticosa, invece con gli operatori privati è più immediata essendo un motore di ricerca, ma a fianco del motore di ricerca troverete dei servizi. Qual è un servizio importante? Come spero ce la facciamo, è quello di avere, come impone la legge recente, il collegato lavoro, i curricula dei neolaureati che possono essere letti attraverso sul motore di ricerca.